Buongiorno a tutti, siamo qui dallo stand Stoibli al Key Energy, molto felici di essere qui anche quest'anno, un'edizione veramente, veramente busy, con un sacco di visitatori allo stand anche in questa occasione. Siamo felici di presentare sicuramente i nostri prodotti, per cui tutta la gamma di connettori e accessori per l'installazione e il montaggio delle connessioni, e anche felici di annunciare l'allargamento della nostra presenza sul mercato, soprattutto nella distribuzione di materiale elettrico, per cui con una presenza ad esempio in particolare presso Sacchi, che è presente con i loro punti vendita nella rete Nord Centro Italia, ma anche virtualmente con l'online shop, che quindi ci permette di essere sempre più vicini al mercato, sempre più vicini ai clienti, con forniture sempre più immediate, pronte a magazzino per in qualche modo soddisfare tutte le esigenze nei migliori dei modi per tutto il mercato italiano.